eccoci alla terza parte del nostro viaggio su amica per quanto riguarda il blitter e le varie ottimizzazioni dopo aver visto il blitter come utilizzarlo nel modo classico abbiamo visto come ottimizzarlo col travel buff abbiamo visto come va utilizzato durante lo scrolling adesso vedremo come fare quest'altra ottimizzazione che purtroppo non è generica presenta determinati limiti ma ha determinate vantaggi e non indifferenti soprattutto se utilizzati con alcune tipologie dei giochi e questo è uno di quelli dove si ha necessità di muovere grandi masse di bob e dove non sono tantissime e dove questa ottimizzazione può prendere posto adesso vediamo subito alcune cose interessanti come vedete qui abbiamo come al solito la classica distribuzione adesso ve li cercherò comunque come funzionano le blittade con il blitter ok adesso vi faccio vedere tutta la sequenza la faccio in blu eccola qua questa qui il canale a punta la maschera il canale b del blitter punta alla grafica vera e propria il canale c punta allo sfondo e il canale d è l'uscita finale come vedremo il nostro bobb eccolo qua qui sotto lo faccio vedere anche se c'è qualcosa che sembra di strano questo qua questo come lo vedremo come sappiamo si cerca di avere le blittade quanto più piccole possibile per non sprecare neanche ovviamente un ciclo soprattutto quello cs e cs dove gli accessi di ma sono davvero molto pochi invece con aga vediamo che il blitter pur essendo lo stesso di ocs e va molto più veloce perché come ho detto il blitter è un circuiteria a due stati quindi papeline caricamento dei dati e esecuzione dell'abilità da interno ok quindi questa papeline può essere sfruttata al massimo prendere i dati e fare i calcoli mentre fai calcoli poi prendere altri dati molto molto ben visibile in aga quindi che cosa succede alla fine fine abbiamo questa situazione qui sotto che adesso ve la faccio ancora una volta vedere anche se c'è una sfumatura e quindi praticamente disegno il bob ripristino il fondale muovo il bob ripristino il fondale e il bob si muove senza lasciare problemi di scia o pixel sporchi se ho il triple buffer posso evitare una delle sequenze perché solitamente le sequenze sono salvo il fondo disegno il bob ripristino il fondo molto lento con il doppio ma soprattutto con il triple buffer posso fare disegno il bob sullo schermo ripristino disegno ripristino quindi come minimo un 25 30 per cento in più di velocità ce l'ho ma soprattutto utilizzo molto meno cpu il che non è male quindi mi permette di fare molta più logica c'è anche un altro modo di andare per poter eliminare uno dei passaggi che il ripristino dello schermo praticamente succede che io disegno solo il bob senza ripristinare il fondo perché il fondo viene ripristinato durante la blittata non è magia è una cosa davvero semplice adesso ve lo faccio vedere continuiamo con la nostra sequenza vi ricordate questa qui canale a canale b e canale c le differenze da fare sono minime soprattutto il canale c che il canale c di solito deve puntare alla stessa zona di ram dove punta il canale d la destinazione e il canale c praticamente punta allo schermo a quello che ha su schermo perché così se ci sono dei bob che si sovrappongono tutto va alla grande in questo caso la prima modifica è questo il canale c deve puntare sempre allo schermo senza nulla a questo qui praticamente al triple buffer al terzo schermo e non può puntare mai a questo qui altra modifica da fare il bob effettivamente deve essere più grande vedete e qui di lato dove ho cerchiato in arancione padone in viola mattina presto vedete intorno c'è un delle box rosse quella è quanto fisicamente è grande il bob praticamente più grande di quanto sarebbe qui in questa zona qui perché devo codificare all'interno della blittata quello che andrò a cancellare in pratica se il mio bob si muove con una velocità massima diciamo di 45 pixel a destra e a sinistra e 45 pixel in alto il basso io dovrei avere una blittata più larga cinque pixel da una parte cinque pixel dall'altra e sopra e sotto perché quando andrò a disegnare il bob praticamente avrò all'interno questa zona qui una zona pulita che praticamente è presa da qui che verrà blittata sul vecchio schermo e praticamente muovendosi il bob andrà automaticamente a ripristinare la vecchia area l'importante è che le aree che sono a destra a sinistra sui giù siano compatibili con la massima velocità che ha se io ad esempio facciamo conto 5 pixel e 5 pixel ma il bob lo muovo di 10 pixel a un certo punto andrò a lasciare su schermo dei vecchi pixel quindi se io invece avrò un bob che 5 pixel a destra e 5 a sinistra e si muove tra i 4 e 5 pixel massimo di velocità ogni volta che il bob si muove andrà a ripristinare la vecchia aria ea sinistra e a destra e sopra e sotto i vantaggi sono molteplici praticamente da tre operazioni sono passato a due adesso passo a una sola praticamente blitto e basta non devo ripristinare niente non devo salvare nulla questo comporta alla riduzione di un altro 20 25 per cento di operazioni su blitter e un fracasso di operazioni sulla cpu accelerando ulteriormente le blittate non vi dico che aggiungete la velocità degli sprite ma poco ci manca però purtroppo qual è il problema proprio per sua stessa natura dato che io andrò a blittare sempre un'aria vuota non posso far sovrapporre due bob in questo modo perché se io faccio sovrapporre questo bob a questo qui che utilizza lo stesso schema succede che questo qui lui vedrà cancellato una parte della grafica proprio perché questo bob qui non prende la grafica da questo schermo ma prende la grafica da qui che non c'è nulla quindi automaticamente non essendoci nulla andrò a cancellare tutta l'area sottostante uno dei trucchi da fare quindi lasciare almeno un gap di 16 pixel perché sapete quando si muovono i bob col fatto dello shifting ci vuole almeno 16 pixel da una parte da da una parte dall'altra perché lo shift pen avvenga quindi il blitter blitta una world in più e quindi non posso far sovrapporre gli sprite se non a 16 pixel di distanza questa la massima distanza che possono raggiungere altrimenti ci sarebbe quel problema stessa cosa sopra e sotto però c'è un vantaggio io ad esempio utilizzo questa tecnica solo per un bob posso farli sovrapporre perché prima disegno questo quindi lui mi pulisce l'aria dopo disegno il bob che può sovrapporsi a quest'altro perché prende la grafica del canale c non da qui che non ci sarebbe nulla ma la prende da qui e quindi automaticamente l'overlapping funziona alla grande con questa tecnica accelero di la metà a meno di 25 30 se non di più questo bob e questo va a velocità classica e questo mi consente di raggiungere a quanto meno questo tipo di giochi 50 fps certo si potrebbe utilizzare anche tecniche più evolute o miste tipo però ovviamente la ram non lo consente quando sono lontani faccio blittare questo quando sono sovrapposti soltanto le aree magari che si sovrappongono faccio con le blittate lente e le aree che non si sovrappongono lo faccio con le blittate veloci nei giochi tipo sparatutto nei giochi tipo fate conto rigar o tarragon o quelle cose lì alcuni bob posso sempre farli con questa tecnica l'importante che il design dei livelli eviti questa sovrapposizione se non automaticamente vedo parti dei bob che sparisco è un vantaggio questo perché mi consente ovviamente di accelerare tantissimo quell'operazione quando sono venuto a conoscenza di questa tecnica e se voi ricordate io feci una demo cscs anche a 64 colori per per riga però purtroppo il gioco farlo finale c'è almeno un megabyte avevo già trovato il metodo per utilizzare questa tecnica ad esempio lo sprite principale era sempre fatto in questo modo e quindi potevo farlo sovrapporre agli altri e ad esempio i draghi che volavano sulla parte altra uno dei due avrei potuto farli con questa tecnica ricordiamoci che è vero che questa tecnica consente l'accelerazione però non posso farla troppo dinamica perché sono c'è il rischio che in determinati momenti il gioco una 60 fps perché la massima accelerazione in altri determinati momenti perché devo utilizzare le brittate più lente piglia mi va a 25 30 fps quindi è meglio giocarsela bene ed evitare di fare troppe diciamo queste tecniche perché sennò un gioco che il frame rate mi fa così ed è giocabile quindi mi va al di fuori del range ecco perché ho sempre adorato soprattutto cscs restringere l'area video come hanno fatto la maggior parte dei giochi e avere una costanza quindi un gioco che sia sempre 50 o 60 fps e che abbia del margine per poter caricare su schermo più bob possibile ma per un gioco dove ce ne ho due così grandi questa tecnica è l'ideale soprattutto perché consente veramente 50 60 fps sempre in presenza anche di tanta roba su schermo soprattutto questo è vero con aga perché ho quei due megabyte di chip e ram che mi consente di fare cose davvero incredibili però sfruttata bene anche qui è molto molto fattibile ad esempio un'altra tecnica utilizzabile come ottimizzazione è quella di ovviamente diminuire il canale dma dove non c'è sovrapposizione voi vedete ad esempio vediamo qua mettiamolo in rosso questa parte alta dello schermo e questa parte qui bassa dello schermo dove i bob non vanno mai ad esempio qui potrei diminuire il numero di bit plane invece di essere 5 potrei portarla a 4 e così facendo avrei una diminuzione del carico sul dma di bit plane e avrei un aumento degli slot disponibili per la cpu per il britter per il coppia quindi il gioco va letteralmente più veloce questo è vero soprattutto nell'area in basso dove qui praticamente non c'è mai la possibilità che questi andando verso l'alto quindi con i salti possono raggiungere queste aree quindi più tengo i bob questi qua più li metto nella parte superiore faccio vedere da qui fate conto io invece di tenerli qua li sollevo quanto più possibile faccio un esempio veloce veloce eccolo qua diciamo che se io potessi posizionarli più su possibile diciamo qui ok io potrei liberare come slot molto più pixel verso il basso diciamo questa cosa adesso ve la cerchio quindi a potrei avere magari invece di 10 20 pixel ma v e 30 40 pixel di aria dove bob non vanno e potrei farla a 4 bit bene o addirittura 3 bit bene utilizzando molto bene il copper e quindi facendo talmente tanti effetti su schermo perché ho ridotto ovviamente l'aria utilizzabile come il bob magari riesco anche a mangiare qualche pixel qui in alto evito che i salti questi giocatori li facciano troppo in alto e questo mi consente ovviamente di avere questo margine per poter avere una grafica d'hock poterli diminuire il bit bene quindi aumentando il slot a disposizione del britta e del copper e raggiungendo magari 60 fps dove in alcune zone non ce la faccio insomma con questa design molto bene fatto dei livelli e ovviamente sfruttando la possibilità di cambiare la profondità del colore e utilizzando questa tecnica vedete che anche con ocs dcs si può muovere l'ira di dio su schermo e anche con tanti colori semplicemente riorganizzando bene i dati che poi questa tecnica è anche una di quelle che ha utilizzato elf mania ovverosia fare in modo che i bob non raggiungano determinate altezze e questo gli ha consentito di avere uno schermo in overscan 32 colori lo schermo in parallasse bob enormi grossi quanto questi qui e ovviamente gli sprite i fondali animati cosa che ad esempio street fighter 2 benché il gioco avesse gli sprite più o meno identici ma mamma mia la grafica faceva veramente ridere così come la giocabilità non raggiungeva e alcune demo come vi ho fatto vedere alcuni sono riusciti a farlo anche meglio del coin op ecco ancora una volta dimostrato come agli sviluppatori non piaceva tra virgolette mica perché dovevi investire tempo e risorse a capire come far funzionare al massimo il chipset e però una volta capito tiravi fuori prestazioni che per un pc ci sono 386 486 super bugia e ram 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 per poter fare cose che con 512k e 7 mega se facevi alla grande insomma non è tutto oro quello che luccica tutte queste tecniche non sono general purpose cioè prima piglia e le applico in ogni dove però danno grande soddisfazione forse faremo una terza puntata per far vedere come anche con questa tecnica sia applicabile al dual play field dove lì ci sia la possibilità di muovere tantissima roba soprattutto se uno dei due play field io lo adotto soltanto per fare ovviamente bob quindi gli oggetti animali lì in quel caso posso addirittura fare delle blittate con una copia ad perché essendo il fondale nero e evitando in alcune zone l'overlapping piglia e accelera ancora ulteriormente le brittate muovendo ancora di più c'è chi utilizzando questa tecnica e facendo quello che vi ho detto poc'anzi e dato che non devo ripristinare lo schermo ma posso cancellarlo con un'operazione velocissima si è raggiunta a 60 fps la possibilità di muovere a 32 x 32 pixel 70 bob a 60 fps una cosa madornale questo è quanto si può fare con una mica davvero cose atroci impensabili con altri sistemi ma come ho detto poc'anzi ci vuole tanto investimento per il momento mi fermo qui poi faremo anche un altro video ad hoc se vi è piaciuto lasciate un like commentate magari parleremo anche di altre tecniche per far vedere che cosa era possibile che cosa è possibile e che cosa potrebbe essere possibile essere fatto con l'amica o cscs ed aga al prossimo video